Ciao a tutti, qualche giorno fa è passato in libreria Giacomo Papi e ci ha lasciato diverse copie firmate del suo ultimo romanzo, Il Censimento dei Radical Chic. Racconta la storia di un'Italia in subbuglio, dove il popolo non sa davvero contro che indirizzare tutto il suo odio e il suo rancore, così se la prende con la classe degli intellettuali. Le istituzioni decidono pertanto di fare un censimento di tutte queste persone, con la scusa di volerli proteggere. Qualcuno rimane vittima di tutto questo odio, il professor Giovanni Prospero, che viene ucciso sul ballatoio di casa propria. Molti altri invece fiutano l'inganno e decidono velocemente di far sparire tutte le prove da casa propria del loro status culturale. In questo piccolo romanzo c'è tanto mistero, un po' di giallo, ma tantissimo divertimento. Vi consiglio di leggerlo perché è davvero molto spassoso. Grazie a tutti.